E' una delle vie d'accesso alla città più battute da pendolari che giornalmente dalla stazione dei treni arrivano e partono da Fano per ragioni di lavoro e di studio, ma d'estate anche da turisti che non è inconsueto vederli trolli al seguito percorrerlo per recarsi nelle strutture ricettive del centro città. Ebbene questo punto di raccordo con il centro città al cospetto di uno dei monumenti più rappresentativi della città al pari della Rocca Malatestiana non versa in ottime condizioni, anzi potremmo dire pessime. Stiamo parlando del tratto di marciapiede che dalla stazione ferroviaria costeggia il bastione Sangallo fino al passaggio pedonale di Via Nolfi. Il manto di colore rosso mattone, un agglomerato cementizio posato su un massetto in breccia, ormai sta letteralmente andando in pezzi, rendendo così insidioso ed instabile il passaggio a piedi, figuriamoci poi con un bagaglio al seguito. Poche decine di metri comunque perché poi inspiegabilmente dopo inizia un più sicuro e ben più estetico fondo in cubi in porfido, perfettamente liscio. Il perché non sia stato fatto tutto il marciapiede in questo modo non ci è dato a saperlo, ci è dato sapere invece dell'ultimo problema di questo punto della città, segnalatoci da un nostro reporter di strada. Uno dei cordoli in granito del marciapiedi è saltato via creando una vera voragine nell'asfalto, pericolosissima per pedoni, anziani e bambini che inavvertitamente dovessero metterci un piede e che data la larghezza del foro finirebbero a tutta gamba direttamente nella fogna sottostante, la cui acqua scorre a vista nella larga fessura che si è creata nell'asfalto.